Nel pomeriggio stesso Coppione che si è ripetuto in aula, questo costruzionismo non tralza il suo convento. Mi pare un comportamento da parte dei Cinque Stelle che richiama la vecchia politica, quella che loro hanno contestato e soprattutto sul provvedimento sbagliato perché si tratta di dare risposte importanti a territori di Taranto, come il caso Ipa, come il Filippino e anche alla questione dell'Expo che è una risorsa importante per il nostro Paese. Il testo che sono definito sicuramente poteva essere anche migliorato, però ci sono tempi strettissimi, è un provvedimento importante. Io ieri ho presieduto la Commissione Lavoro, non ho espresso il parere perché abbiamo ritenuto troppo poco il tempo a disposizione, ma al tempo stesso oggi con grande senso di responsabilità siamo un'aula per votare, quindi è il fatto che risponde a diverse esigenze, ma soprattutto emergente nel Paese.